ciao ciao a tutti allora benvenuti innanzitutto nel canale filati da sogno e la prima cosa che vi voglio dire sì ok siamo qui con tutte queste meraviglie e non ci sono tutte qui sulla mia postazione perché non ci stavano quindi vi prego prendetevi proprio un po di tempo per me che vi voglio raccontare un po di filati così da consigliarvi per quel che posso ecco vi do le mie i miei pensieri ecco su questi filati che ho appena ricevuto alcuni non li avevo ancora presi altri invece ovviamente già conosciuti riprese riprese ancora ma quello che io voglio dirvi oggi ragazze è che ieri ho postato aurora aurora e non so se mi stai guardando per la prima volta mi rivolgo singolarmente o se hai già visto aurora però io vi dico questo adesso parlo al plurale vi dico questo sono così emozionata che veramente non riesco a parlare quando io vi rispondo mi dovete credere o seriamente un sorriso che va da un orecchio all'altro cioè non sono finta sono proprio così così come voi mi vedete con tutti gli errori con tutti i pasticci con tutti i cuori che tra l'altro non so come far a mettere le faccine alle risposte perché se non le riempirei di faccine sorridenti e cuoricini ma non non riesco su youtube se qualcuno mi vuole insegnare grazie visto che io sono appena nata qui su youtube e quindi non sono ancora capace grazie questa un'osservazione di servizio ecco a parte questo come vedete sono proprio fatta così cioè non non è questione sono felice veramente che aurora vi sia piaciuto l'anteprima di quel filmato io l'ho registrato alle 4 di mattina e forse l'avete anche notato perché ho una voce tenebrosa proprio tenebrosa però erano le 4 di mattina non riuscivo più a dormire perché vi avevo promesso di postare il tutorial il nuovo tutorial mercoledì e mercoledì era alle porte erano le 4 di mattina io ero lì nel letto con gli occhi spalancati dicevo oggi devo andare a lavorare non riesco a montare il video e mi manca ancora l'anteprima quindi alle 4 di mattina vi ho pensato ecco questo per capire in che condizioni sono messa ok se mi metto alle 4 di mattina a pensare a voi ce ne sono veramente a posto vuol dire che mi sono veramente affezionata a tutto questo a tutto quello che doveva essere un hobby e che voglio che continui ad essere solo esclusivamente un hobby perché io il mio lavoro ce l'ho l'ho già detto questo voglio che sia un hobby mi devo divertire però ecco mio marito mi ha detto con gli occhi aperti alle 4 della mattina ti ho visto una sola volta effettivamente è vero cioè non si fa così però se io do la mia parola non riesco proprio a non mantenerla ecco per esempio il tutorial che io vi ho fatto è una prima parte perché sennò veramente diventava troppo lungo io a volte sono un po troppo spiego un po troppo come dire voglio essere troppo precisina o spero di esserla e magari poi non riesco a farmi capire perché io ce la metto tutta però ecco la seconda parte francamente proprio non mi stava e non è che non mi stava diventava poi noioso seguirlo quindi abbiate pazienza per la seconda parte è già registrata devo montarla ma francamente io volevo farvi vedere questi filati e anche le cake anche le cake quindi mi raccomando seguitemi poi per carità di dio io non vi sto dicendo fate ordini fate ordini io vi voglio solo far vedere perché se siete come me cioè che amate i filati anche solo a vederli a toccarli a ecco allora anche questo può essere una gioia quello di poter vedere i filati non dico di persona però molto meglio che in una sola foto ok io avrei tanto voluto appunto vederli sempre così quindi cerco di fare la cosa che io avrei voluto ok farvene vedere il più possibile mi sto svenando ve lo dico aiutatemi mi sto svenando per acquistare tutti questi filati ho già la casa piena solo per farvi capire che di tutto quello che prendo io voglio farvi dei tutorial più facili più difficili più lunghi più corti quelli che siano siano però vorrei proprio cercare di farli e spero che abbiate pazienza perché ho due mani in soltanto un lavoro una famiglia quindi io cerco di fare tutto nel non lo so nel miglior modo possibile ma quanto io spero di riuscire a fare basta ok basta volevo solo ringraziarvi baci 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 a tutte le mie amiche e amici perché abbiamo anche un carissimo amico adesso insieme nel nostro gruppo dove vi chiedo se volete e se vi fa piacere di entrare nel nostro piccolo gruppo sempre giù sotto il video ragazze vi metto tutti i link nel nostro gruppo piccolino ancora siamo piccoline siamo piccoline ma tanto carucce e facciamo tante cose creative e anche solo per dei consigli potete venire per vedere chi ha acquistato cosa acquistato come si è trovata tutto quello che volete potete appunto inserire i vostri progetti perché no c'è tutto quello che voi avete creato con l'uncinetto insomma vi aspettiamo ok bando alle ciance ne faccio fin troppo andiamo con il primo filato allora chi mi conosce sa già che io temo tutto ciò che pizzica vero ragazze sicuramente lo sapete già allora e quindi filati da bambino per la mia pelle non più da non più da bimba però con la sensibilità di un bambino francamente non non potevo sbagliarmi e di fatti non mi sono sbagliata col baby con tom bright allora print 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 questo qua ok è questo oh ma sono solo io che non riesco bene a dire le cose in inglese cioè sono rimasta al medioevo ragazze va bene ok allora questo filato che trovo veramente morbidissimo e vi faccio vedere sento certo che parlano l'inglese come se fosse la loro seconda lingua che brave che sono eccolo qua cioè ha delle sfumature di una tonalità così delicata che è vero per i bambini fare fare non so dei pagliaccetti delle copertine del ma anche solo un cardiga una maglietta un prendisole qualsiasi cosa ma anche per noi anche per noi io lo trovo delizioso come ci sono varie varianti però sempre molto delicate molto molto delicate e morbidissimo stiamo parlando di un 50 per cento cotone non sono a fuoco chissà e quante cose ho detto non a fuoco ok comunque 50 per cento cotone e 50 per cento acrilico consigliano un 3 4 come uncinetto io decisamente sono andata sul 4 perché col 3 secondo me stringe troppo poi anche lì guardate che pasticcio che ho fatto anche lì dipende dalla dalla mano della persona ok però con la mia mano il 3 mezzo mi stringeva troppo e di conseguenza vedete che col 4 è perfetto cioè io direi proprio con il 4 poi ragazze quando arriva voi prendete l'uncinetto 3 mezzo l'uncinetto 4 lo provate con uno e con l'altro e vedete se vi trovate bene o meno ok qui io francamente guardate si può fare qualsiasi cosa vi ho fatto talmente tanti cardigan e francamente fare un cardigan è anche molto molto lungo quindi adesso vorrei cercare di farvi un qualcosa di un pochino più corto cioè nel senso di tempo e nel senso anche per voi se volete magari fare un qualcosa cioè che ci mettiate meno tempo ecco per riuscire a farlo magari possiamo farlo proprio con questi comunque stiamo parlando del baby cotton print ok questo qua questo qui ok cosa abbiamo ogni gomitolo sono 100 grammi e riceveremo 400 grammi in un lotto ok quindi voi sapete che non non si vendono lotti singoli bensì vanno all'otto quindi voi riceverete quattro gomitoli da 100 grammi ma non vi dico niente di nuovo tenete d'occhio questo baby cotton print ok vorrei passare adesso ad una ad un filato che sto provando cioè no anzi non ve lo voglio far vedere ecco deve essere una sorpresa comunque sia si chiama alara ecco non l'avevo ancora provato questo alara e io so che i loro critici sono sempre eccezionali quindi ho voluto anche perché le mie adorate che cotton fine sono cotone acrilico però questa è una struttura diversa e ho voluto provarlo ovviamente io cosa ho fatto è certo eccolo qua ditemi come sono questi due colori messi insieme ho preso questo che è un verde menta menta me sembra latte menta ecco come colore strepitoso mi piace tantissimo e bianco e vorrei fare qualcosa insieme col verde menta e il bianco come mi sembra allora lo trovo morbido come come dire morbido e soffice ovviamente sulla pelle e devo utilizzare anche qui il 4 ecco come per esempio per il baby cotton pride bisogna utilizzare il 4 ma questo qui è un pochino più spessino quindi io vi dico è molto bello molto bello ma se vogliamo fare i lavori per esempio io aurora con questo non l'avrei mai fatto ok aurora non so lavori veloci ecco ecco ok se vogliamo fare dei lavoretti lavoretti dei delle creazioni veloci come spero di riuscire a mettere a fuoco io con questa creazione un qualcosa di veloce allora è perfetto perché è morbido e un cotone acrilico quindi anche lavandolo si stringe non l'ho ancora lavato e questo quindi non vi so dire però avendo dell'acrilico dentro non essendo cotone al cento per cento rischiamo pochissimo poi ovviamente ragazze non mettiamo nei lavatrice a 60 gradi perché vabbè allora poi però ecco se noi li laviamo con delicatezza magari anche a mano cioè sicuramente riusciamo a mantenere le forme che le abbiamo dato anche perché guai al mondo se uno dei nostri progetti poi si dovesse rimpicciolire per uno sbaglio in lavatrice ok quindi a mano mi raccomando a mano laviamoli a mano quindi stavamo parlando della lara la lara è un 50 per cento cotone 50 acrilico come appunto vi dicevo ogni gomitolo sono 50 grammi con 140 metri consigliano il 4 effettivamente io sto usando il 4 qui non ho nulla da dire sono 400 grammi quindi riceverete 400 grammi di filato o di un colore o dell'altro voi vedete il bianco e il verde menta ma sono due lotti ok che io ho preso quindi ogni lotto ovviamente ha il suo colore il 4 e il suo uncinetto è un bel prodotto non per fare aurora ok no aurora con questo secondo me viene troppo grossolano aurora con un filato così è meglio con le cake che dopo vi farò vedere chi non conosce il camilla cotton allora è uno tra i filati uno è tra i filati più venduti è molto raffinato molto molto raffinato come come filato leggermente lucido al contrario ecco al contrario della lara ok riesco a farvi anzi forse con un colore ecco riesco a farvi notare la differenza questo è il camilla cotton e questa è la lara la lara è stupendo ve lo dico e ve lo ribadisco tant'è che il primo che sto già usando per fare un progetto ma ripeto se vogliamo fare qualcosa di molto raffinato usiamo il camilla cotton qualcosa di più di carino non voglio vorrei cercare di spiegare questa cosa praticamente essendo questo molto più lucidino e un cotone mercerizzato al cento per cento più sottile quindi è più indicato a fare delle lavorazioni più più raffinate ok ecco per esempio aurora potrebbe andar bene anche con anche con un camilla se non vi piace lo sfumato delle cake per carità ci sta potete utilizzare anche il camilla ok tenete conto che nel lotto di camilla che ci sono varie tonalità ma veramente tante tra l'altro ne sono uscite anche di nuovo anche di quelle un po flash io ho preso un rosa penso che sia un rosa antico questo più o meno dovrebbe essere tipo un rosa antico ogni gomitolo e da 50 grammi ma non avete 400 grammi in un lotto ce ne sono 300 grammi ok ogni gomitolo come dicevo sono 50 grammi da 125 metri a gomitolo e in un lotto voi avrete 300 grammi quindi attenzione fate fate i vostri calcoli nel senso che con 300 grammi si fa una canotta ok magari una canotta se la facciamo traforata possiamo metterci anche la manichetta ok ma non la manica lunga perché altrimenti non ci sta quindi occhio alla misura occhio alla misura e occhio a guardare sempre nei lotti c'è sempre scritto per esempio in questo caso c'è scritto un lotto sei articoli andate a vedere ogni articolo e 50 grammi e il conto è fatto ok quindi ogni voi leggete sempre bene a fianco qui avete 300 grammi di un filato meraviglioso questo non sto neanche a dirvelo perché è veramente 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 bello questo mi piace molto come filato e non è sfumato certo non è sfumato ma chi l'ha detto che per forza debba essere sfumato cioè io li amo entrambi sia gli sfumati che no l'importante è che siano belli ecco ritorniamo al mio discorso che siano belli a proposito di rosa antico vi ho detto tutto vero l'uncinetto l'uncinetto numero 3 quindi a volte si potrebbe anche utilizzare il 2 e mezzo è su questo però un 3 è perfetto io ho sempre utilizzato il 3 col camilla cotto allora questo è il camilla prima di passare a questo vorrei parlarvi di questo viscose metallic comfort allora splendido filato vero ma con questo e non ci farei mai e poi mai e poi mai una maglietta un cardigan o qualcos'altro io con questo usandolo doppio doppio potrei farci non so una borsa un costume questa è la coppa di un costume che tra l'altro io vi dico la verità l'ho usato doppio perché avevo nella borsa quando è arrivato il pacco era in ufficio come al solito e avevo nella borsa l'uncinetto numero 3 e mezzo e ovviamente un 3 e mezzo con un filato così sottile anche no ho dovuto usarlo doppio e nella pausa tra un lavoro e l'altro ho fatto questo quindi praticamente era solo per capire no come veniva perché vi dico io è io non farei mai un cardigan o una maglietta con questo perché lo trovo duro è adatto e per me per me per me ok per me è adattissimo per fare bikini ecco perché elastico ha una quantità di elastane all'interno e vi dico questo se vogliamo farci dei costumi da bagno e io francamente vorrei provarne a fare uno è adatto però ragazze poi attenzione questo è il mio pensiero perché se voi lo toccate non è così rigido probabilmente io utilizzandolo doppio e sentendolo così io anche no avere una cosa così come cardigan cioè io lo voglio morbido ok cioè questo è un mio pensiero è un mio gusto quindi se voi siete come me chiamate qualcosa che vi scenda morbidamente addosso no con questo perlomeno non doppio magari utilizziamo il filo singolo devo fare la prova e poi magari ve lo faccio poi sapere la prossima vedete come elastico magari ecco utilizzato filo singolo con un uncinetto vediamo un po qui andrebbe un due e mezzo ecco magari con un due e mezzo tre ecco magari rientra è un po più morbido magari per fare con coprispalle perché essendo così luminoso e pieno di sbrillucichi che io non riesco mai a farvi vedere con questo proprio comunque spero che arrivi a voi questo brillare essendo così brilloso sbrillucicante che bei termini essendo così allora ecco magari un coprispalle per la sera durante l'estate ecco un coprispalle o abbinare magari un copricostume al bikini quindi farsi il bikini un copricostume lavorato magari a filo il copricostume lavorato a filo singolo con anziché un uncinetto non so due e mezzo usare il tre e fare magari delle maglie molto larghe ok senza nulla pretendere come punti deve essere un punto semplice un punto traforato e quindi io vi ho parlato di chi viscose quindi abbiamo della viscosa viscose metallic comfort comfort perché è elastico quindi abbiamo un 57 di viscosa 24 57 per cento di viscosa 24 per cento di poliamide e l'11 per cento di metallic lurex che quello che lo rende così luminoso e l'8 per cento di elastane ecco quindi se vogliamo fare dei bikini ci sono dei colori ragazzi andate a vedere che ci sono dei colori bellissimi io ho scelto sempre un rosa antico questa volta sono andata sui colori rosino tutti i tenui però c'è da c'è veramente l'imbarazzo della scelta sui colori al momento è al momento che io vi parlo quindi se vi piace qualcosa come vi dico sempre non aspettate che ci ritroviamo poi a non avere più i lotti e non si sa quando rientrano bene qui abbiamo sono 50 grammi allora 50 grammi scusate 1 2 3 4 5 6 sono 400 grammi in un lotto ok ogni 50 grammi quindi ogni gomitolone abbiamo 230 metri un bel po quindi rende anche molto ok quindi ricordate cosa vi dice marina bello ma non per quanto mi riguarda io con questo non ci farei mai una maglietta a pelle avete presente quelle magari un po de rentine no e molte le fanno però questo è solo una mia una mia idea e tantomeno un giacchino quindi io con questo ci farei solo cose estive tipo costumi costumi copricostumi o eventualmente delle bellissime dei bellissimi coprispalla molto eleganti da usare la sera appunto d'estate ok e vi ho parlato anche di questo ora vorrei parlarvi prima di passare ai miei amori di questo filato e ritorniamo al baby è un filato mi ha dato una sensazione meravigliosa appena l'ho ricevuto è un merino wool pratica il baby merino deluxe è un 40 per cento merino ok e un 60 per cento premium acrylic vi ricordate che io vi ho già parlato dell'acrylic quando arriveremo in quest'autunno inverno ve ne parlerò molto più spesso perché io gli acrilici della ice sono formidabili niente a che vedere con gli acrilici che abbiamo sempre provato non mi dilungo in questo perché nell'altra recensione ve ne ho già parlato tipo il gessetto sulla lavagna o tipo il polistirolo quando lo si strofina ecco non è così è praticamente nuvola il premium soprattutto è nuvola questo qui è abbiamo detto il baby merino quindi abbiamo del merino all'interno e sottilino quindi qui possiamo finalmente utilizzare io amo i filati non troppo spessi anche se poi utilizzo anche quegli spessi per fare qualcosa di grazioso tipo dei poncio o dei maglioncioni da montagna avete presente quelli belli cicciottoni ecco li uso anch'io però ecco se voglio farmi un cardigan qualcosa di non dico raffinato ed elegantissimo però un qualcosa di carino ecco non vorrei oltrepassare il tre e mezzo come come uncinetto se scendo anche al due e mezzo sono contenta lo so che ci vuole più tempo però il risultato a mio parere ragazze parlo sempre per me ok a mio parere è migliore qui consiglia un tre come uncinetto io questo effettivamente lo userei con un due e mezzo tre dipende poi dalla mano ma ci hanno preso proprio in pieno in questo caso ma in molti casi ci prendono in pieno sono io che magari non mi incontro con quello che scrivono loro perché magari voglio fare un progetto diverso e quindi mi occorre un uncinetto diverso e questo è veramente consigliato da me il baby merino deluxe è veramente un'ottima scelta un'ottima scelta su serio questo qua è bellissimo mi vedo già tante cose tra l'altro ho preso questo filato chiedo scusa eccomi sono tornata quando quando squilla il telefono non riesco a non rispondere allora dicevo ho acquistato questo per per farmi appunto io amo i cardigan perché con una camicetta e un cardigan praticamente tu sei vestita di tutto punto volevo fare un cardigan ho fatto male per i miei calcoli perché è vero che sono 150 metri per 50 grammi ma abbiamo solo 300 grammi e quindi qui un cardigan non viene assolutissimamente quindi per quanto mi riguarda dovrò prendere un altro lotto e lo farò subito prima che mi esaurisca questo colore o magari metterò un colore ma no mi piace molto questo colore qua d'inverno è già tutto scuro quindi magari un colore così in cardigan con un colore così secondo me è molto ti fa star bene ecco come dico io ti fa star bene ecco quindi occhio in un lotto qui abbiamo 300 grammi ok in un lotto 300 grammi perché ogni gomitolo sono 50 grammi e dico mi gomi non comitoli ma gomitoli abbiamo due quattro e sei ok e qui abbiamo parlato del meraviglioso baby merino deluxe ora prima di fare il tutorial di aurora ho realizzato il tutorial di sinfonia ok sinfonia è uno scialle per chi non l'ha ancora visto e nel nostro gruppo una carissima nostra amica ha postato lo stesso scialle ma fatto non con la cake remix ma con questo filato mi è piaciuto tantissimo tantissimo se siete nel nostro gruppo l'avete sicuramente visto e tra l'altro anche max il nostro creativo il nostro creativo fantastico ha fatto anche lui sinfonia e presto ne vedremo sicuramente delle altre ma questa ragazza tra l'altro adesso in questo momento mi deve perdonare ma non ricordo il nome non vorrei dire un nome per un altro e ha realizzato il sinfonia con questo meraviglioso filato invernale è un filato invernale perché ovviamente i progetti che vi faccio vedere si possono fare sia con i filati invernali che con i filati estivi allora aspettate che prendo la fascettina che quello già ed è lui stiamo parlando del mirage color ok il mirage color che tra l'altro c'è un colore del mirage color che ho puntato adesso esaurito tra l'altro di questi ce ne sono pochissimi e quindi se volete prenderli adesso dovete proprio fare così così dovete fare perché ce ne sono pochi e un 50 lana un 50 acrilico da lavorare con il 4 e io di fatti stavo lavorando con il 4 ho fatto solamente una prova molto molto rapida per vedere se col 4 va bene ma anche con un 4 e mezzo si lavora con molta scioltezza così rimane ancora più soffice bello non pizzica sapete che io sono quella del non pizzica non pizzica e ha queste varianti di colori che sono veramente veramente belli quindi vi ho fatto vedere due vedete che all'interno poi ritorna questo se volete vedere lo chalet sinfonia che ha fatto sia max che questa carissima amica l'ha fatto proprio con questo entrata nel nostro gruppo così li vedete e mi scuserò io penso di ricordarmi il nome ma ho paura di sbagliare non vorrei dire un nome per un altro mi scuso con te che l'hai realizzato con questo filato scusami se in questo momento che sto registrando non mi viene proprio non ho la certezza ecco del nome ok quindi scusami tanto ed sono stati tutte e due bravissimi e quindi se volete venite e così lo vedete proprio realizzato con questo filato sono abbiamo detto o non l'ho detto sono 100 grammi con 300 metri ok 100 grammi 300 metri riceverete quattro bellissimi facciocosi perché facciocosi gomitoli quindi sono 400 grammi in un lotto se però volete prendere il mirage non aspettate troppo perché non ce ne sono tantissimi ok quindi mi raccomando dimenticavo di tutti i filati di cui vi sto parlando e consigliando e vi sto dicendo appunto cosa ne penso ovviamente sotto il video trovate 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 tutti i link questa è marina trovate tutti i link ok quindi sotto il video quindi andate proprio a cercare c'è una freccetta o un continuo non mi ricordo cosa c'è cliccate si apre proprio un'altra finestrella sottostante con tutti i link che vi portano a questo filato quell'altro quell'altro al nostro gruppo al nostro sito e via dicendo ma ora finalmente voglio parlarvi delle mie amatissime cake io sono nauseabonda lo so ne ve ne ho parlato tantissimo vi ho fatto il tutorial appunto con la cake che è aurora se volete andate a vederla appunto nel mio canale le cake sono delle favole delle favole sono delle torte sono dei pasticcini sono tutto quello che voi volete ma sono di una morbidezza incredibile quando voi create con la cake un capo che sia uno chalet o che sia aurora che è appunto un cardigan un giacchino chiamatelo come volete lo indossate indossate qualcosa di soffice e morbido qualcosa di fresco ma di una certa consistenza quindi se non l'avete provato adesso ci sono dei nuovi colori come vi dico sempre quando io vi allerto così è perché quando ci sono soprattutto questi capi questi filati che sono filati che tutti vogliamo ne mettono tanti ma nel giro di poco si esauriscono e poi si aspettano giorni settimani a volte mesi per riuscire a riaverli io per esempio avevo acquistato una cake party che è molto simile a questa comunque ne ho parlato anche nel tutorial di Aurora e non c'è più non c'è più party non c'è più non esiste più era un'edizione limitata quindi al momento non la vedo più proprio nel sito quindi non so neanche se ritorneranno perché era proprio qualcosa di nuovo e non so se ritorneranno questi sono dei colori nuovi che sono usciti da poco e come vi dico sempre se potete ovviamente scusate il rumore ma ve l'apro così almeno vi faccio vedere la rosa come la definisco io e se potete ovviamente che discorso se potete non aspettate mettetele via e se vi piace Aurora create Aurora con queste cake che sono semplicemente un amore allora le varianti di colore sono tante io ero indecisa su tantissime avrei voluto prenderle tutte ma come già vi ho detto mi sono svenata qui è come andare a giocare all'otto ma io non gioco sono una giocatrice non mi piace giocare perché detesto perdere quindi è stata brutta l'associazione che ho fatto scusate ma era solo per farvi capire che è una questione che non riesco a smettere non riesco a smettere di acquistare perché mi piace mi piace lo prendo questo per questo questo per l'altro lo prendo ma faccio bene sapete il perché perché io poi li avrò li avrò qui e posso continuare a creare se invece le guardo soltanto ripeto se si può se si può li guardo soltanto e poi mi viene la voglia di prenderlo ma non c'è più mi arrabbio perché quando io vedo già l'altra volta avevo perso questa avevo perso questa qui e non c'era verso perché quando non c'è non c'è è passato quanto più di un mese finalmente l'ho visto ho detto no adesso basta la prendo ok le cake ragazze le cake con questo potete fare delle cose strepitose per quanto semplici possano essere le creazioni che noi andiamo a fare saranno sempre uno spettacolo da vedere sono delle cake sono quindi queste torte qua di colore sono 150 grammi ne ricevete due in un lotto quindi sono 150 grammi per due sono quindi 300 grammi in ogni cake sono 600 metri quindi ognuna di loro sono 600 metri ok i colori da scegliere sono tantissimi io uso l'uncinetto numero 3 e mezzo non ve lo sto neanche a far vedere guardate aurora è sempre il 3 e mezzo che io uso con l'oro cotone acrilico ecco sempre qui cotone acrilico ma provatelo e poi sbugiardatemi se potete perché non è possibile proprio dire che è brutto questo filato su molti altri posso dire a me è piaciuto a voi no ok o il contrario a te piace a me no questo ok ma queste secondo me non possono non incontrare i gusti di noi di noi creative di noi chiamiamo queste cose il gusto dei colori è un altro discorso perché a me può piacere l'azzurro a te magari l'azzurro proprio non ti piace neanche guardarlo a un chilometro di distanza quindi ma di colori al momento in cui ti parlo ok ed è il 24 maggio al momento in cui ti parlo ci sono molti esauriti ma molti sono tornati e molti sono nuovi ok tipo questo colore rosa che sembra veramente una rosa cioè è vero o solo io ho questa sensazione a me sembra una rosa come vedere tanti petali mi sembra di vedere tanti petali ecco io immagino aurora fatto con questo perché già aurora ha tutti i petali che poi non sono in realtà dei petali comunque sia assomigliano io li definisco petali immaginatelo vederlo anche così quindi il mio consiglio di oggi e di sempre perché sarà sempre così finché ci saranno le cake io ve le consiglierò e date un occhio a queste cake e se potete solo se potete ovviamente ragazze perché capisco benissimo che a volte non si può e quindi cancellate quello che io sto dicendo però se potete io prenderei le cake così da tenerle e fare quello che più vi piace dalle cose più semplici alle cose più complesse vi ho fatto vedere i colori trick questa qua è di una dolcezza finisce col grigio quindi partiamo da un panna e finisce con il grigio passando dal cammello bellissima qui abbiamo visto sono i petali della rosa quindi da rosa pallido andiamo verso il salmone il bordeaux finisce anche lui col grigio ma pochissimo ce n'è proprio poco proprio all'esterno il cielo come lo definisco io un turchese incredibile che al mare cioè immaginate non so fare un prendisole con questo è uno spettacolo come avete visto ragazze vi ho catapultate nel mio mondo questo mondo che è un mondo fatto di colori è un mondo fatto di passione perché la mia è veramente una passione come la vostra ecco perché mi trovo bene con voi e di persone vere e di tanti grazie che io devo a voi devo a voi tanti grazie perché io sono una neonata qui in youtube e grazie a voi io ve l'ho chiesto fin dall'inizio mi state facendo crescere ve lo richiedo ancora aiutatemi a crescere ancora e di questo non smetterò mai di ringraziarmi ma poi di quello che voi mi scrivete ma siete fantastiche credetemi quando io vi rispondo sul serio ve lo ribadisco un'altra volta quando vi rispondo sono veramente emozionata ci sono dei messaggi poi che mi lasciano proprio col cuore che fa quindi è veramente un grazie sentito il mio di tutto ragazze quello che io faccio per voi è niente cioè i tutorial che faccio sono niente confronto alla gioia che voi mi state regalando vi abbraccio strette a me tutte quante e se ci sono dei maschietti solamente un bacio sulla guancia niente bracci questo per essere certa non per togliere nulla però gli abbracci solo alle mie amiche e ci vediamo presto con la seconda parte del tutorial che appunto vi devo fare per forza di cose perché altrimenti voi intanto andate avanti con la prima parte di aurora la seconda parte di aurora entro lunedì ecco la promessa riuscirò a finirla in modo tale a montarla più che altro in modo tale da potervelo offrire nel frattempo se volete approfittare scegliete il colore per aurora basta 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 non vi dico nient'altro tanti baci ragazze tanti tanti baci grazie a tutti grazie a tutti